Sì, penso che tutto ciò che è fisico è estremamente legato a cose che sono superiute. Invece i valori sono qualcosa su cui dovremo sempre di più appoggiare la società e l'educazione dei nostri figli. Quindi, quello che ho cercato di fare con questo gesto è far capire a tutti che tutto ciò che è materiale è inutile o comunque noi diciamo un valore che poi in realtà ne appoggio. Invece magari attraverso dei materiali si può dare dei messaggi importanti. E come spesso ripetevo ai calciatori che ho avuto la fortuna di incrociare nella mia carriera, quando hanno un microfono sotto il naso si dicono qualcosa di interessante, possono incidere pesantemente sulla vita delle persone. Grazie. L'amministrazione ha sempre pensato a noi in questi momenti, ma ringrazio Daniele perché sapere il valore che ha una maglia nel calcio, nello sport, è qualcosa. E lui ce l'ha donate e noi cercheremo con il risultato di queste maglie di farne buon uso per la nostra misericordia, per le nostre cittadinanze, San Giovanni e Capriglia e per tutti i valdati. Perciò grazie Daniele per quello che hai fatto, che non è una piccola cosa perché per noi è tanta, tanta, tanta. Grazie. La nostra idea nasce dalla situazione prevalentemente perché noi siamo un'associazione che fa attività culturali in genere, però ci siamo resi conto che in questo momento era importante fare un'azione del genere e è importante tirare fuori la solidarietà tra le persone. Infatti noi abbiamo fatto una raccolta alimentare nei punti vendita del comune di Capriglia e nei circoli e per questo, in aggiunta ovviamente all'aiuto del comune, per risvegliare questa solidarietà che in questo momento si è fatta più forte, però va mantenuta viva il più possibile. La nostra associazione e la nostra attività si è sempre basata sul concetto dell'autogestione e anche in questa situazione lo portiamo avanti, nel senso che anche con questa raccolta abbiamo voluto provare e rimarcare il fatto che la comunità e l'autogestione e la solidarietà tra le persone sono la cosa che conta e quello che fa andare avanti una comunità e sostiene le persone nel momento dell'autogestione.